Devo resistere nel curarmi Devo resistere nel curarmi dopo che passo questa fase Qui facciamo più damage, qua però la concentrazione Non sta andando giù come ho previsto, anzi eppure No, prima siamo andati molto meglio Va bene, io ora qua praticamente non mi curo Accumulo a TB Ecco qua Perché così qua ne faccio due di fila Visto praticamente l'abbiamo, questo l'ho breccato anche prima Vediamo ora solo una barra di HP E che però qua Cloud ha più HP di tutti Ok, ora non più Ok, qui ora è Zack con più HP No, merda No, è Cloud qua quello con PHP ora No, Zack di merda Io tolto troppi HP a Cloud Mi devo togliere gli HP a Cloud Però c'è anche da dire che ha meno Lui ha meno buff in attacco Vediamo se sopravvive Ma intanto facciamo così Ha meno buff in attacco Forse vediamo se sopravvive Gli ho messo anche barrier Se sopravvive qua Cloud Siamo a posto Attenzione Ahia, bastardo Tu qua ora ti buffi Ok Questo breccarlo subito è fondamentale Ok, bravo Targetta Zack A posto Qui possiamo rushare Qua mi avrebbe potuto targettare anche Aeris In realtà non è un problema Sinceramente parlando non era un problema Qui ormai abbiamo vinto Qui vabbè lo possiamo far shottare Tanto non cambia nulla Qui non sarei sopravvissuto Proprio neanche per sbaglio Abbiamo anche la cura di Aeris Bonus Ok, va bene Suka Così mi curo prima Anche se tu mi fai l'attacco Quello ranged Io mi paro E ora appena parte la limite di Cloud Toh Morto Arrivederci e grazie Boh Fatta Effettivamente me la ricordavo più alta come livello Per questo non l'ho fatta Però effettivamente non è difficile Almeno con questo team non è difficile Non è difficile